Buonasera a tutti, grazie della vostra partecipazione, grazie della vostra presenza per iniziare insieme i festeggiamenti di San Bartolomeo, perché questa volta, quest'anno la nostra banda dà proprio in là, dà proprio in via i festeggiamenti del nostro paese, i festeggiamenti di San Bartolomeo. Avete visto che quest'anno abbiamo cambiato location, in genere suoniamo all'ombra del campanile, questa sera suoneremo all'ombra del palatene, perché sembrava che Giove Pluvio magari volesse metterci lo zampino per impedire lo svolgimento di una così bella serata, però così non è stato e ci ritorniamo tutti quanti qui proprio per trascorrere insieme una bella serata all'insegna della musica e della cordialità. Diamo benvenuto a tutti e ringraziamo in modo particolare l'amministrazione comunale, in particolar modo il sindaco e tutte le associazioni che sempre collaborano con noi, non solo per questa festa, ma durante tutto l'arco dell'anno. Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo poi agli sponsor della brochure Zoom Papa che trovate sulle sedie e che è una pubblicazione oramai divenuta abituale da un po' di anni per far conoscere le nostre iniziative musicali e stile. Grazie.